Il Presidente Maurizio Rivellino con l'inizio dell'anno accademico dell'Univol e della scuola ha preso il via anche la nuova stagione del Percus Molise. Quali le novità principali? Tante le novità, la principale ovviamente riguarda tutte quelle attività che contengono la diffusione del Covid-19, quindi abbiamo predisposto tutte le attrezzature e l'impianto per distanziare distanza di sicurezza, sanificazione tutti i giorni, dispositivi di sicurezza individuale. Per quanto riguarda invece le attività, sono 18 le discipline che attiveremo quest'anno, molte conferme e altri inserimenti, con tutte le attività giovanili che già abbiamo svolto lo scorso anno. Per quanto riguarda invece l'aspetto agonistico, sarete protagonisti con il CLM Rus Molise in A2 e con il volley maschile in Serie C. Quali le aspettative? Sì, con il calcio A5 e di A2 per il secondo anno parteciperemo al campionato, avendo maturato una tranquilla salvezza lo scorso anno. Devo dire che la dirigenza e i tecnici del CNL hanno attrezzato una bella squadra con conferme importanti e nuovi ingressi, oltre alla valorizzazione di tanti giovani promesse locali. Mentre con il Cus Volley, avendo vinto due campionati consecutivi, quest'anno ci sarà il campionato di Serie C e sono certo che avremo delle belle soddisfazioni anche con il volley.